buonasera a tutte eccoci qua vi presentiamo il nuovo materiale dei nastri di mirta il vedo non vedo il vedo non vedo sfume quindi vi ricordate il famoso vedo non vedo del natale per la primavera hanno realizzato un tessuto sempre il vedo non vedo cioè i due tessuti uno più opaco uno più trasparente però in questo caso per la primavera è stato realizzato sfumato quindi un degradé di colore vi faccio vedere nei nei due nelle due varianti vedo e non vedo la scalatura di colore vedete parte dallo scuro e va al chiaro e chiaramente viceversa questo è il non vedo e questo è il vedo ecco qua si vede il vedo non vedo ma ok quindi questi sono è il nuovo tessuto dei nastri di mista di fili ok allora i colori che abbiamo scelto il tiffany che vi ho fatto vedere adesso questo color salmone il rosa e il giallo ocra questi sono i quattro colori tre più il tiffany che vi ho fatto vedere che abbiamo scelto cosa abbiamo realizzato il coniglio cosa abbiamo realizzato aspettate un momento un momento no prima vi faccio vedere queste cose qua allora abbiamo realizzato ecco qua fai un' inquadratura allora partiamo dalla cornice la cornice in legno porta foto una cornice porta foto da appoggio e realizzata con delle roselline vedete l'effetto del tessuto una volta lavorato ha già assume già una sfumatura perché chiaramente essendo il tessuto della colorazione la colorazione come vi ho fatto vedere a questo aspetto già sfumato quindi abbiamo realizzato delle rose e dei fiorellini con il pistillo realizzato con la maglina lurex quindi questo è un primo progetto la cornice in legno porta foto poi abbiamo realizzato utilizzando un cartamodello e un fiore con sei petali e abbiamo fatto la scatolina porta oggetti questa è più una scatolina porta gioie ecco qua dentro ci sono i petali delle prove fatte quindi la scatolina porta gioie e abbiamo fatto la sfera primavera la sfera di primavera sempre decorata con il vedo non vedo sfume la palla in plexiglass trasparente il rivestita con il tubolare sempre trasparente tubolare voile e decorata con questa questo tessuto la pallina in rivestita con il lurex e poi i nuovi nastri che abbiamo preso per la primavera che trovate sul sito quindi oltre a questi abbiamo realizzato anche allora questa è la sempre gli stessi articoli realizzati nella colore tiff nel colore tiffani e questo nel colore salmone in più in tutti i colori a e anche nel rosa vi faccio vedere la sfera rosa eccola qua quindi tutto quello che vi faccio vedere lo potete chiaramente avere in questi quattro colori ok altro progetto realizzato con il vedo non vedo sfume è questo cordone personalizzabile con l'iniziale in legno e decorata con il vedo non vedo il pizzo il tulle ricamato e i nastri sempre in abbinamento che abbiamo preso per per quest'anno quindi questi sono i a e ora vi vado a prendere anche il coniglio e aspettate allora cosa vi dicevo allora questi li trovate domani da domani caricati sul sito farò le foto domani per indicarvi anche i prezzi dei vari kit seguirà chiaramente il tutorial di ciascun progetto perché ovviamente per farvi vedere come si fanno i fiori sono semplicissimi e sono semplicissimi e sono necessari solo dei piccoli accorgimenti però l'effetto di questo tessuto è molto particolare e sinceramente anche con un fiore semplice come può essere questo che abbiamo fatto sulla sfera l'effetto è veramente molto molto particolare vado a prendere il coniglio aspettatemi ecco qua questo è il coniglio il coniglio è realizzato su porto di legno sempre dei nastri di perimetrato con un cordone rivestito con il nostro pizzo il nostro feltro accoppiato con il pizzo e decorato con il vedo non vedo sfume questo è il progetto pasquale gli altri diciamo sono tutti progetti che vanno benissimo per tutto l'anno quindi sono cose decorative per la vostra per la vostra casa dalla sfera che potete appendere o anche appoggiare su qualcosa delle vasettine di vetro delle vaschettine quello che più preferite questo chiaramente un portagioie portoggetti quindi sono cose che ovviamente vanno bene per tutto per tutto l'anno quindi vi ripeto domani troverete sul sulla pagina facebook e sul sito tutti gli articoli caricati con i vari prezzi dei kit e del materiale ovviamente metterò anche i materiali singoli della cornice per chi vuole decorarla poi con altri materiali delle scatole di tutto quello che abbiamo visto adesso con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani ciao ciao